Allora, mio padre a sei anni e mezzo circa fu addoato, cioè fu dato a un contadino per un anno, un contadino, un massaro, Massacurciusic in questo caso, Tumino, questo significava questo, che le famiglie che non potevano mantenere i bambini, li davano a lavorare da pastorelli in genere, a quell'età era per fare questo lavoro, avevano un numero di pecore, perché a quell'età il massimo era, diceva mio padre, un venti pecore che potevano governare, lui ha avuto un'esperienza poi con un altro massaro di cento pecore e non ce l'ha fatta, quindi glieli davano solo perché li sfamassero, quantomeno, e quindi addovare significava che la responsabilità del figlio per un lunghissimo periodo passava totalmente, aveva una carta bianca, dal genitore o dalla genitore, in questo caso la mia nonna, al massaro, che poteva fare tutto quello che voleva, infatti su questi poveri bambini facevano quello che volevano, li picchiavano, li traumatizzavano. Tra l'altro, proprio qua vicino a casa mia, si svolgeva la fiera di Santa Maria a Ferragosto, cioè era il giorno in cui tutti i genitori portavano i bambini in questa bruttissima situazione in cui addovavano questi bambini, li affittavano, li davano, li cedevano e quindi c'era questa fiera della carne umana dei bambini che si svolgeva a casa e poi nel dopoguerra, proprio per iniziativa di mio padre, di un gruppo di braccianti, fu tolta perché hanno fatto un'irruzione, hanno fatto fuggire tutti e hanno detto basta con questo schifo, gente che aveva vissuto sulla propria pelle questo schifo. Quindi lui fu addovato e visse questa sua prima esperienza con questo Massaro, un'esperienza traumatica perché i bambini lavoravano anche loro come grandi dall'alba al tramonto, non venivano mai, li svegliavano verso le 4 di mattina, lui mi racconta, io ho raccolto questa sua esperienza in un'intervista che poi è stata pubblicata, prima che lui morisse siamo riusciti a fare un libretto delle sue memorie che è molto simile a quella di Rabito perché effettivamente il periodo era quello ed era per chi era povero, questo era l'unico modo di vivere, di sopravvivere. Quindi lui ha sottolineato poi due episodi che sostanzialmente poi danno il senso della vita che facevano questi bambini, uno era il trauma, la paura e il terrore che avevano di questi proprietari, di questi massari, che la mattina questi bambinelli alle 4-4.30 li buttavano giù dal letto e se i bambini ritardavano li picchiavano con i nervi e con le corde uiarrune che era la corda a cui si leggono le zampe di dietro delle mucche quando vengono monti. Quindi lui per esperienza dopo aver preso le prime botte decise furbescamente secondo lui, secondo un bambino di 6 anni, 6 anni e mezzo, di corregarsi il vestito e non togliersi le scarpe in modo che la mattina quando il massaro lo chiamava, lui subito scattasse. E così fece. Non si tosse i vestiti e le scarpe per circa 5 settimane, solo che era inverno, un periodo molto piovoso, queste scarpe che erano delle scarpe fatte di cuoio, di mucca, molto resistenti, molto dure, però inzuppate di acqua lui diceva che erano diventate come delle laniere. Quindi non si tosse queste scarpe, a metà di questo mese che gli faceva male un piede a lui si è accorsa che la scarpa non si sfilava più, però non parlava, non diceva perché aveva paura e continuò zoppicando per altri 15 giorni. Poi alla fine della quinta settimana il massaro gli diede due giorni di licenza e lo mandò a casa. Arrivò a casa, tutto ovviamente chiaramente sudicio, con questi abiti che da un mese non si cambiava, e sua sorella, che era più bianca di lui, gli disse Angelo, spogliati che ora io ti faccio cambiare, ti lavo e ti cambi gli abiti. E lui scoppiò a piangere, scoppiò a piangere, dice ma perché stai piangendo? Perché le scarpe non me le posso togliere, non mi vengono fuori. Allora mia sorella, sua sorella si rese conto e chiamò due ragazzi, due vicini che erano 20 anni, più o meno 18 anni, che stavano aspettando di partire per il militare, la chiamata. E questi due ragazzi si misero, uno lo trattaneva per le spalle e l'altro tirava i piedi a riuscire a togliere le scarpe e lui dice sempre una frase, mi tossero le scarpe, le calze e la pelle dei piedi. Tanto fu il dolore di questa cosa. E questo proprio la dice lunga su come loro avessero questa relazione, con il massaro, la paura che avevano per fare una cosa così autolesionistica. Un altro episodio che la dice pure lunga, sempre con lo stesso massaro, fu che un giorno il massaro era fuori dalla masseria per tutta la giornata e la massara, la moglie, era quella che aveva in mano la situazione. Allora a lui lo comandò di mettere le pecore nel cortile e dare una spazzata, pulire il cortile, spostare tutte le cacche, il fumiere degli animali, portarle in un altro angolo della casa del cortile. Allora faceva lui questo lavoro, nel frattempo che lui era impegnato a fare questo lavoro, una pecora saltò nell'orto della massara e spezzò un alberello di albicocche. Poi la pecora ritornò al suo posto e non se ne accorse nessuno. Se ne accorse più tardi la massara e naturalmente accusò lui. Dice tu hai fatto fuggire la pecora, non te ne sei accorta. Dice ma io tutto il giorno che lavoro qua non è che ho fatto quello che lei mi ha detto. Dice ora quando viene un massacruzio dentro una lignata. Allora lui con questo pensiero che aveva preso botte, fuggì dalla masseria, preso una strada per andare verso Ragusa, dove era la zona di Castiglione, quindi erano diversi chilometri, non molti, ma un 5-6 chilometri fuori città. Lungo la strada lo incontrò un vecchio contadino con un carretto, lui diceva che andava a 2 chilometri l'ora e gli dieve un passaggio. E incrociarono in senso inverso un ragazzo che lo conosceva, questo ragazzo lo salutò, però pensò sta andando a casa a Ragusa, Angelo, li salutò e andò verso la masseria dove lo lavorava. Nel frattempo lì il massacruzio era rientrato e questo bambino mancava, lo cercarono, si cominciarono a preoccupare, mentre arrivò il ragazzo che avevano loro incontrato, gli chiedono se non mi hai incontrato Angelo, dice sì sì c'era lì con l'altro vecchietto, stavano andando sul carretto a Ragusa, dice prenditi la mula e valla a prendere. E allora questo ragazzo lo andò a prendere e lo raggiunse velocemente e quando lo pese gli spiegò mio padre perché era fuggito, perché non voglio prendere botte dalla massacruzio, non ti preoccupare, ci vado io, ci parlo io, botte non te ne danno. E tanto fu poi, diciamo, si conclusa la cosa che mio padre disse che non avevo mai assaggiato pasta asciutta dal massacruzio e quella volta la sera mi fecero mangiare la pasta asciutta perché ovviamente loro capirono forse che avevano abusato troppo, no? Quindi diciamo questa era la vita di un bambino fragile e povero diciamo che viveva lì. Poi lui cambiò appunto in questa fira di Santa Maria, lo adduavano varie volte in altri anni, perso altri massaggi, finché poi invece la carriera, diciamo, da pastorello ha curato, insomma, i vari passaggi della vita di campagna, sempre rimanendo in quest'ambito di pecorario comunque, finché poi più grande comincia la vita di abbracciante.